E ben ritrovati con le notizie in 60 secondi. Sono riprese questa mattina le ricerche per la signora Antonella Di Massa, la 51enne di casa Micio, la scomparsa da sabato scorso. Al momento si sta procedendo a perlustrare la zona di Succhivo. Ieri sera, durante la trasmissione Chi l'ha visto, l'appello del marito Mimmo e la figlia Alessia, che hanno chiesto ad Antonella di fornire notizie sul suo stato di salute e invitato gli isolani a continuare la collaborazione. Questa sera appuntamento in diretta alle ore 21.10 all'Isola che non c'è, trasmissione di approfondimento di cronaca, attualità e politica di Teleischia, argomento della puntata Il futuro dell'Isola d'Ischia in campo turistico. Al Telesedischia si è tenuto un importante momento di formazione per i professionisti isolani dedicato al mondo della bassa temperatura, un innovativo metodo di cottura illustrato dallo chef Angier. Promozione gironiane, recupero della ventunesima giornata di campionato a Scampia, l'oratorio Don Guanella e il Procida non vanno oltre lo 0 a 0. Prossimo appuntamento alle ore 20. Grazie per averci seguito. Grazie per aver guardato il video.